DEF CON 1 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo new set della Magical Adventure in combinatina di Arctic Runner Erwin Reitz Basta picchiarvi Arctic ha rotto il cazzo Cattivo Arctic Va in castigo Prima di Vedere questi episodi vi consiglio Di passare nei loro canali perchè hanno fatto Qualcosa di molto bello all'isola E quindi vi consiglio di vederlo Dopo aver fatto questo Abbiamo anche estratto gli iscritti Ecco Quindi mi raccomando Cosa Faremo noi oggi Incominceremo un pochino di magia Infatti siamo nella zona della magia Magia signori la magia Oh si la magia Comunque stiamo parlando Io sto parlando leggermente a bassa voce perchè E' luna di notte Siccome hanno bisogno di registrare adesso perchè loro sono notturni Esatto Posso girare E' la madonna Arctic Girati No io non compro niente Vai a vendere le rose altro Le rose altro Ok Ok Ah ma che poi vi ho fatto anche una gag riguardo alle rose nel mio video Si si Vabbè guarda ve lo dovrete vedere Ok allora Se non ti serve del legno Prendete tanto legno Ok Prendiamo tanto legno Ok Lo sto andando a prendere subito a casa Abbiamo racconto E per casa intendiamo thrash game mod 1 No dai Ma non lo sai No 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 se lavora nell'inventario Allora Infatti come vedrai dalla chat Non ho niente C'è delle persone qui Buttate il legno Forza Buttate il legno Ah vi serve Si No non lo sai così Volevo guardarlo nelle vostre manine cubettose Cioè veramente Allora Mangio una bistecca in faccia Guarda siccome mi fa pena te ne regalo pure uno E io la rubo captive Unger games intanto noi No che palle Tacc et tacc Abbiamo messo questo tavolini Che sono No no Lo facciamo qua sotto Allora non servono a un cazzo Non servono a un cazzo Ehi tr foundersEN camera lightweight potere divino esatto e comunque cosa dobbiamo fare noi dobbiamo fare adesso i describo il tour che delitto allora ci serve una bottiglietta inchiostro arti che ti sto chiamando guarda c'ho la chiave nooo no vabbè raga allora voi ce l'avete una bottiglietta si si ce l'ho il problema è se mi dici come si scrive in inglese magari la ritrovo meglio bottle guarda proprio in italiano no in forza link sa che ho una piuma ne ho una eh ce l'ho anche l'inchiostro io ho la piuma no scherzo non manco quella non c'è proprio niente nel mio inventario devo andarla a prendere aspetta che c'è giusto un uccello qua guarda ah se mi ricordo bene, vediamo un pò finiscono pure i tavolini, basta finisci a dichiararmi che cosa sto combinando raga io sto premendo il roberando io è arte oddio che è sta roba ma lo vedo solo io ma aprite la grappe no servono le pagine servono dei fogli prendete i fogli tanti fogli oh che bello ti servono i fogli aspetta che c'è una copisteria qua proprio dietro casa tipo è amico di famiglia io ho in mano una cosa ma voi non guardate oddio allora un momento aspetta che devo purtroppo fare una gag aspetta oddio ma solo io vedo una chat intensatissima cos'è successo? ma dove? da dove è arrivato? no ok ragazzi oggi non facciamo la magia no no vedi che si risolvete in 3 secondi qui in questa nuova modalità guardate M ha velocizzato il video guardate ha velocizzato il video adesso c'è una canzone sotto non stiamo facendo niente oddio mio ok ok quindi avevo detto che dovevo mettere questo qua ok questo no raga il video è mio vabbè va qua manche qualcosa no introduzione al grippaggio questo video prego smettilo basta il terrore della lava del fuoco aspetta aspetta sto creando delle robe io si pure io non ce lo facciamo scrivere dagli iscritti esatto perfetto scrivetecelo voi nel frattempo siamo qua registriamo non dobbiamo fare invece la bacchetta magica ok fai la bacchetta magica io sto creando robe aspetta che ho un amico fabbro qua dietro casa però mi devi dire cosa hai bisogno eh no a me mi serve del ferro non so perché ma noi ce l'avevamo anche legalmente volendo guarda c'era una vena di ferro qua oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo basta no dai basta però eh noi facciamo le guardie del corpo di qua non passerà nessuno più aspetta è cattivissimo però ok io così così ora si che non passa nessuno ok io faccio il fratello verde le faccio pure a voi le bacchette magiche perché sono buono eh grazie ti ricordo che questa qua noi siamo nabbi questa qui arena non si fuma non te lo ricordo ah grazie perché avevo già una voglia guarda sei proprio orribile arti che te lo dico soprattutto questo orecchino da non lo so da gitano io faccio la piastrella del palimento prendete prendete li sto buttando grazie le prendo tutte io ok che cosa è sta cosa che c'è perché hai rotto la tua spada su di me che ero pure in creativa no ci ho fatto io una bacchetta su grazie andiamo a fumare dopo che figata si è giunto una cosa in alto a sinistra vedete si 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 a me sono ancora un calamaro quello che è eh si prendiamo subito me allora momento 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 dove finire il regno raga chi si è ciolato il legno eh io io ah scusa eh ecco non io allora a quanto pare non io eh a quanto pare si ciao ma forse c'era anche questo eh poi non lo so ho creato uno elemento il virtus tipo allora adesso mettiamo questo qua ma che cazzo sto farmando robe regà ho farmato tante cose boom ecco qua fatto wow nice very nice in questo qui noi mettiamo una bacchetta possiamo già incominciare a craftare le prime robe della magia che figata cazzo ma io mi sono cellato per casa la bacchetta di qualcuno no no ok ma come adesso me ne ritrovo due non so come craftiamo la roba eh eh questo qui adesso poi andremo a vedere noi nei prossimi episodi ma è leggero non ne ho fatto la cosa che questa qua ok gli iscritti ci diranno come funziona bene questo qua e poi noi cominciamo a craftare le varie essenze le varie cose fighe golem che picchiano arctic yeah voglio subito ok quindi ragazzi ah ecco artic tu devi dire una cosa importante cosa? una cosa che riguarda questo server ah giusto perché siccome non ho parlato abbastanza esatto 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 la dico io allora ragazzi nella descrizione praticamente c'è un codice promozionale che vi permetterà di acquistare server minecraft e server team speak voi basta che inserite il codice che c'è appunto nella descrizione vabbè vabbè avete anche il link si si che buono che hai fatto a coppare oltre a quella avrete anche nella descrizione il link per acquistarlo e voi comprate tanti server fate guadagnare tanti soldi a questa azienda che è bravissima esatto che ci permette di fare questa serie e vi ricordo che comunque la sorella di Eren è disponibile no è sposata ah tradisce e quindi ragazzi questo episodio finisce qui vi ricordo di mettere 727.000 like a questo video e anche quello di Artic e di Eren e nada ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti